Una legge a tutela dei riders. Dopo lo sciopero dei lavoratori Amazon, il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha annunciato che l'Assemblea si appresta a discutere una proposta legislativa riguardante il settore. Formazione politica alla scuola entro l'anno, approvato lo statuto della Fondazione della Scuola per Giovani Amministratori intitolata ad Alessia Ballini. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana discuterà una proposta di legge per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio della Toscana, Antonio Mazzeo, in occasione dello sciopero dei riders di Amazon. Il Consiglio promuoverà anche una proposta di legge al Parlamento per sollecitare una normativa nazionale in materia. Sentiamo il presidente Mazzeo e poi i rappresentanti dei gruppi politici. Sono davvero contento che il Consiglio regionale abbia votato all'unanimità una mozione che chieda di redarre una legge a favore della tutela e della salute dei lavoratori delle piattaforme digitali. Da quando sono stato eletto presidente del Consiglio regionale ho sempre detto di voler dar voce a chi ha meno voce. Essere al fianco di tanti lavoratori che oggi hanno meno diritti è qualcosa di importante e sono contento che questo lavoro sia stato apprezzato da tutte le forze politiche in Consiglio regionale. Ci sono temi su cui non ci deve essere differenza di posizioni partitiche ma ci deve essere un solo obiettivo, dare risposte a quei lavoratori che oggi hanno meno diritti. La regione deve fare il possibile con la consapevolezza che una buona parte del lavoro dovrà essere fatta per le garanzie a livello nazionale. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle appena salito al governo si è subito proposto per la sicurezza dei cosiddetti riders, di coloro che appunto portano i pasti a domicilio. Dobbiamo fare lo stesso tipo di intervento, è fondamentale perché questi lavoratori sono sempre più diffusi e soprattutto questa multinazionale, ma dobbiamo fare attenzione anche alle altre, deve garantire i giusti livelli di tutela. Non c'è lavoro se non c'è lavoro sicuro e retribuito e con le giuste garanzie. Questo deve essere un imperativo per la Toscana e per il nostro governo. Intanto mi fa piacere e voglio fare veramente complimenti ai lavoratori di Amazon perché prendere una iniziativa sindacale come quella che hanno preso contro forse il più grande colosso mondiale non credo sia facile, serviva perché bisognava portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di queste persone. Io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto, non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro, me lo auguro, ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte. Però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021. È un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale, indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro, a un lavoro che in questo momento sta faticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili, grandi redditività e che sta, tra virgolette, guadagnando dalla crisi degli altri. E quindi come tale questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi mediante il proprio lavoro produce quel reddito? Intanto la solidarietà e la vicinanza è giusto che il Consiglio regionale la esprima sempre. Noi non siamo soliti portare in aula mozioni sulle tematiche del lavoro e condividerle indipendentemente da chi le presenta. Noi ci aspettiamo che anche qui la Regione si attivi il prima possibile per dare risposte a tutti quei lavoratori che lavorano anche in tempo di pandemia, che subiscono turni che sono pesantissimi e che hanno giustamente delle richieste da fare alla politica, che non può tacere la risposta ma che si deve impegnare per portare le loro soluzioni. Questa multinazionale ha 175 centri di distribuzione nel mondo, 40 in Europa, alcuni anche in Italia, fra l'altro due qui in Toscana, a Pisa e qui nella Piana Fiorentina. C'è stato un forte aumento tra l'altro dei volumi di affari di queste aziende che sono legate all'e-commerce, causa anche il Covid che ha costretto le persone a stare in casa. C'è stato un aumento di oltre il 50% dei volumi di affari. Ecco, rispetto a questo aumento di volumi che presuppone anche un aumento dei guadagni, c'è invece una situazione che viene denunciata dai sindacati e dei lavoratori di compressione di quelli che sono i diritti, la qualità del lavoro che sono costretti invece a subire. In termini di turni stressanti, di necessità di consegne alle ore più disparate, assenza di clausole sociali nei loro contratti, molti di questi contratti sono precari e quindi c'è stata un'altissima adesione al primo sciopero che è stato indetto dai lavoratori di questa grande azienda, perché ha partecipato oltre il 70%. Ecco, noi pensiamo che vada riaperto il tavolo che invece l'azienda ha interrotto di confronto e di dialogo con i lavoratori, perché siano accolte le richieste che loro fanno e quindi occorre, essendo questa un'azienda che ha presenza su tutto il territorio nazionale, che il governo si faccia carico di questo, riapra questo tavolo e siano possibilmente, questo noi auspichiamo, accolte le richieste che vengono fatte. In più, ci impegniamo anche a produrre un atto legislativo che vada incontro alla tutela dei diritti del lavoro dell'economia cosiddetta digitale. Questo, pensiamo, sia non solo dovuto, ma anche fortemente coerente e in linea con la tradizione di civiltà e con l'impegno per la qualità e la sicurezza del lavoro che la Toscana ha sempre messo nei propri atti. Cambiamo argomento. Approvato a larga maggioranza lo statuto della Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale, intitolata ad Alessia Ballini. Oggi è una bella giornata. Abbiamo dato seguito alla legge che era stata approvata nella scorsa legislatura. Abbiamo votato una delibera che istituisce l'atto costitutivo con cui andremo a fondare una scuola di formazione politica. Il nostro obiettivo dall'inizio di questa legislatura è quello di dare risposte ai ragazzi più giovani. Vogliamo dare con questa scuola gli strumenti ai giovani amministratori Anter 40 per svolgere meglio il loro compito, quello di dare risposte ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Lo faremo insieme a Danci, insieme a Dupi. Cercheremo di mettere in piedi una scuola di formazione che oltre a fornire gli strumenti definisca anche le principali azioni valoriali che la nostra Regione vuole portare avanti. Sarà pronta dall'estate di quest'anno. Noi speriamo di fare i primi corsi subito dopo l'estate in maniera tale da poter coinvolgere già i primi studenti nel 2021. Ora, non appena sarà approvato, sarà sottoscritto lo statuto e l'atto costitutivo, torneremo in Consiglio regionale per eleggere il CDA della Fondazione che, sottolineo, svolgerà questo incarico senza alcun compenso. Innanzitutto ricordiamoci la storia. La scorsa consigliatura, dove anche all'epoca risultavo tra i consiglieri, vide uno degli ultimi atti, devo ricordare anche con un atto votato proprio in fretta e furia, la istituzione della scuola. Quella fretta non ci piacque, proprio perché rappresentava una forzatura di finale consigliatura che ovviamente non poteva trovare il nostro consenso. Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di Presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centrodestra, con i consiglieri del centrodestra che stanno dando un importante contributo. Ecco, si è scritta una pagina diversa. La scuola era istituita. Ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento, perché quando le cose esistono di fatto, occorre cercare insieme di dare un buon funzionamento. Quello che chiedono i toscani è che le cose oggettivamente funzionino. Buon senso. pragmatismo. Noi abbiamo dato veramente dei contributi importanti sotto questo punto di vista. Il direttore risulterà tra le persone che fanno già parte delle strutture e dei soci fondatori di regione ANCI, UPI, e quindi non ci sarà un costo, un aggravio di costi ulteriori. E questo è un dato importante in un periodo come il nostro. Inoltre cercherà di fare una buona sinergia e collaborazione con la scuola di ANCI. Perché ecco, questa riguarda appunto tutta la Toscana e tutti gli eletti. Quindi anche la collaborazione con ANCI, con la collaborazione con UPI. Inoltre posso dire che vi è proprio quella politica volta al contenimento dei costi, che a noi piace. Quindi una scuola di formazione che avrà sede in questo palazzo, presso il palazzo del Pegaso. E siamo soddisfatti per aver dato il nostro contributo. L'abbiamo fatto con responsabilità, con serietà, con maturità. Ecco, cerchiamo di far funzionare le cose bene in Toscana. Cerchiamo di pensarci bene quando si istituiscono. Ma una volta istituiti, come è il caso della scuola di formazione, facciamola funzionare almeno bene. Attualmente è fuori contesto, stante l'emergenza che stiamo vivendo. E non parlo solo per i 300 mila euro che dovrebbero essere devoluti per il finanziamento, ma parlo anche di come si vorrebbe impostare questa scuola di politica. La scuola politica la fa ciascun partito, noi come movimento, nelle formule che avvicinano il cittadino alle istituzioni, a un percorso di politica intesa in senso puro, genuino. Avvicinarsi all'interesse di tutti, della collettività. Mi sembra un'iniziativa della Regione Toscana che non abbia un fondamento particolarmente forte. Sembra soltanto una delle tante iniziative della Regione Toscana, ma non ne trovo in questo momento né l'utilità e né soprattutto le fondamenta, le basi anche argomentative per crearla. È un'occasione per buttare via i soldi. Lo abbiamo detto in maniera molto chiara. Siamo l'unica forza politica, Forza Italia è l'unica forza politica che ha votato no allo spreco di 300 mila euro in tre anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato? Perché allora dovete chiedere a chi mandate nei consigli comunali, nei consigli di quartiere, nei consigli regionale in Parlamento, la sai fare politica? La sai riconoscere una differenza fra una mozione e un'interrogazione? Se vi risponde di sì, votatelo. Se vi risponde di no, non lo dovete votare. Perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente, dalle tasche di un pensionato, si venga, vengono prelevati dei soldi e quei soldi servono per formare chi? I politici. Questo è il modo peggiore di fare politica. Forza Italia in maniera fiera è l'unica forza politica che ha votato in consiglio regionale contro questo spreco di danaro pubblico. Perché la formazione appartiene ai partiti e perché la formazione la si fa ascoltando i cittadini e facendo i percorsi. Io ho fatto il consigliere di quartiere, il consigliere comunale, ora il consigliere regionale. Questo è quello che dovrebbe fare la politica, non chiedere che i cittadini paghino le tasse per poi formare i politici. È inaccettabile. Cambiamo ancora argomento. La Commissione Ambiente del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta a chiedere conferma all'ANAS che la chiusura della strada statale 64 Porrettana sia successiva alla messa in sicurezza della viabilità alternativa. Il testo impegna la Giunta anche a chiedere ad ANAS di intervenire nello stesso cantiere della Galleria del Signorino anche sulla messa in sicurezza dei due ponti che precedono la Galleria. Sentiamo il primo firmatario del testo, Alessandro Capecchi. Sì, in Commissione siamo riusciti con un lavoro iniziato con la nostra proposta a mia firma insieme ai consiglieri Fantozzi e Veneri a elaborare una mozione che impegna la Regione Toscana a farsi valere al tavolo che viene gestito dal prefetto per i lavori che dovranno riguardare il traforo della collina. La Porrettana, sapete, è un'arteria molto importante e collega la Toscana all'Emilia ma soprattutto è sede di tante attività economiche che già sono state danneggiate dalla pandemia. In questo senso abbiamo chiesto naturalmente che ANAS non soltanto faccia un calendario dei lavori noto e che sia rispettato ma che colga l'occasione dei lavori al traforo anche per mettere in sicurezza i due ponti che sono immediatamente precedenti e che già da mesi sono transennati e vengono superati solo con senso alternato e con impianto semaforico. Abbiamo chiesto che sia messa definitivamente in sicurezza la strada alternativa per i pistodesi in particolare la vecchia strada della collina anche con un piano neve perché è ovvio che si tratta di una strada nata tanti decenni fa che non ha più avuto un traffico pesante di una certa dimensione e quindi il piano neve dovrà servire a intervenire in caso di necessità per evitare che quell'arteria di scarico in questo caso essendoci la statale bloccata possa andare in crisi. Infine abbiamo chiesto e la maggioranza l'ha accettato tant'è vero che la mozione è stata votata poi all'unanimità che siano valutati gli eventuali danni a carico dei soggetti economici in particolar modo i pubblici esercizi che gravitano intorno all'area della Porrettana affinché nel caso in cui sia rilevato effettivamente un calo ulteriore di fatturato ci sia la possibilità di ristorare queste realtà economiche. E chiudiamo con la protesta di un altro consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci sull'esiguità dei ristori per le attività della montagna toscana. La montagna in questo caso purtroppo la commissione aria interna ha partorito un topolino ovvero un atto per certi versi superficiale, noi l'abbiamo votato perché era inconsistente e nella sua inconsistenza non si poteva votare contro, però noi avevamo chiesto due cose fondamentali. La prima, di sospendere il pagamento dei canoni demaniali, del demanio regionale per coloro che gestiscono gli impianti di risalita alle piste da sci, perché è evidente pagano un canone per poterli far sciare le persone. Se le persone non si possono far sciare perché gli impianti sono chiusi per legge, quel canone non è dovuto, è buonsenso. Quindi avevamo chiesto di sospendere per il 2020 e il 2021. Dopodiché abbiamo chiesto finanziamenti e ristori per una categoria che viene bistrattata, è quella del ricettivo, alberghi, B&B, case vacanze, eccetera, che rischiano molti di queste strutture di non riaprire mai più, impoverendo in maniera drammatica per sempre i nostri territori, perché evidentemente se gli alberghi sono belli, attraenti e ci sono, il territorio è capace a potenzialità turistica. Se gli alberghi chiudono oppure non hanno i soldi per ammodernarsi è chiaro che c'è un impoverimento drammatico dei nostri territori e della nostra capacità turistica. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS